cara michela cerco di scriverti questa lettera forse l'unico modo per riuscire a farti capire il mondo in cui in cui sono costretto a vivere nessuno si rende conto di quella che di quello che mi succede io stesso non so cosa mi sta succedendo un tempo riuscivo a parlare con le persone e a camminare senza dovermi chiedere se il pavimento c'è ora mi sento solo maledettamente solo ci fossi stato almeno tu qui accanto a me non potrò mai essere più quello che ero ho paura Grazie 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 Grazie